Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Edoardo è rimasto deluso da alcune dichiarazioni di Charlie e nel post puntata esprime tutta la sua amarezza. Conclusa la puntata, Edoardo sente l'esigenza di confrontarsi con Charlie. Non ha gradito le dichiarazioni fatte su di lui e su Antonella. Conosce lo speaker da diverso tempo e non pensava potesse mai andargli contro. La delusione provata l'ha spinto addirittura a nominarlo. Edoardo è cosciente di essere impulsivo, se gli piace una ragazza non sa trattenersi e ci è rimasto male a sentire che Antonino potrebbe facilmente conquistare Antonella. Il comico ribatte dicendo che lo vede come un collega e non come un amico. Edoardo è un ragazzo divertente, ha piacere a parlare con lui e ritiene siano compagni di gioco. Ringrazia che nella casa ci siano persone così scherzose altrimenti si annoierebbe. Edoardo lo avvisa, se metterà la strategia di gioco davanti all'amicizia, lui potrebbe troncare il rapporto nato tra loro. Il ragazzo è una persona di cuore, mosso da valori e ideali. Le relazioni, per lui, valgono più di freddi calcoli. È un ricatto che non posso accettare, afferma Charlie. Lo speaker comprende che sia deluso e arrabbiato, ma a suo avviso, la reazione di Edoardo è esagerata. Non contempla che sia così nervoso per il banale episodio successo in puntata. L'uno di pancia, l'altro calcolatore, Charlie e Edoardo sembrano proprio giunti davanti a un video. Riusciranno a trovare un punto di incontro oppure da questo momento prenderanno strade differenti? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!